Un tavolo tecnico con ASL, prefetture e proprietà per risolvere o comunque chiarire la loro situazione. Da 11 mesi senza stipendio i lavoratori del centro diagnostico Cedisa di Salerno hanno incrociato le braccia oggi per lanciare l'ennesimo appello all'azienda e alle istituzioni dopo tante riunioni andate a vuoto. Una volta è l'ASL che non paga e quindi noi ci sacrifichiamo e aspettiamo. Adesso il problema è Equitalia e quindi è bloccato tutto e manco riusciamo a percepire. Purtroppo oggi ci vediamo costretti tutti a fare questa forma di protesta che poi andrà avanti sempre legalmente perché noi comunque faremo le cose a norma, però adesso non possiamo, dobbiamo andare avanti. Quindi è un atto dovuto. Abbiamo bisogno di un segnale, l'avevamo anche detto alla proprietà, un segnale perché il Cedisa rispetto ad altre strutture sempre gestite dal gruppo, in cassa del cash giornaliero, i ticket, allora ci dava un segnale, ci dava qualcosa, ci faceva andare avanti. Ma purtroppo non possiamo, sono 11 mensilità che noi vantiamo. Noi sappiamo, questo è un campanello d'allarme, però è una situazione che abbiamo riscontrato in altri ambiti per quanto riguarda la prestazione, i servizi. Noi sappiamo che l'ASL puntualmente eroga quelle che sono le prestazioni alle varie strutture e dall'altro lato ci sta, come denunciato, la mancata corrispondizione degli stipendi. In più, dato estremamente negativo da sottolineare, è la completa assenza di dialogo da parte datoriale. 34 i dipendenti del Cedisa che crescono a 60, se si considerano anche medici e consulenti esterni. Le prestazioni in ogni caso, almeno per ora, sono state assicurate. Oggi come oggi non c'è nessuna difficoltà operativa. L'attività operativa è rimasta la stessa, i volumi pure gli stessi, tranne quel calo fisiologico che è dovuto anche alla presenza di altre strutture che sono intervenute nel momento. Ma tutto qui, insomma, non c'è nessun ostracismo e non c'è nessuna difficoltà operativa, da un punto di vista tecnico. Grazie a tutti.